Le normativi europee che impattano sugli enti locali, la cooperazione tra enti territoriali di specifiche aree, l'accesso ai fondi strutturali, sono alcuni dei temi del corso di formazione sull'Unione Europea, organizzato dalla Consulta Europea e dalla Consulta Lette del Consiglio Regionale, presentato nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Il corso, rivolto ad amministratori e funzionari degli enti locali, è gratuito ed è organizzato in collaborazione con l'Istituto Universitario di Studi Europei, l'Use. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una cassetta degli attrezzi, da cui poter attingere per utilizzare le offerte provenienti dal mondo comunitario. Direi che con grande successo i risultati sono stati importanti, hanno coinvolto i comuni del Piemonte, dai grandi ai piccoli comuni. La richiesta degli amministratori è quella di avere l'opportunità di formarsi, di conoscere meglio l'Unione Europea, ma sicuramente anche le disponibilità che si possono ottenere attraverso la partecipazione a bandi. Aspetto sicuramente complesso, direi che amministratori e funzionari condividono lo stesso percorso per la consulta europea. Questo è un grande obiettivo e sono sicura supereremo i numeri dello scorso anno.